Da verificare, ma insomma i contorni sono davvero pessimi. Tra queste mura che un tempo ospitavano una scuola e che oggi sono la sede della comunità per minori San Martino, si sarebbero consumati abusi sessuali su una bambina di 11 anni, disabile. Ci troviamo a Vitiano, comune di Arezzo, al confine con quello di Castiglion Fiorentino, due gli episodi di cui la bimba sarebbe stata vittima avvenuti a dicembre e a marzo, sempre di pomeriggio e mai scoperti dagli educatori. A portare alla luce la vicenda sarebbe stato un altro ragazzo, ospite della struttura, che avrebbe confidato alla famiglia quanto accaduto. L'episodio è stato immediatamente segnalato alla procura di Arezzo, che ha trasmesso gli atti per competenza a quella minorile di Firenze. È stato il procuratore capo Antonio San Germano a disporre il blitz nella struttura, effettuato mercoledì mattina dal personale della Polizia Municipale di Arezzo e Castiglion Fiorentino. I due ragazzini accusati di violenza, peraltro uno dei due, avrebbe una disabilità, negano tutto. Abbiamo deciso anche che quei minori che erano in qualche modo in carica a questa comunità e non toccati dalla vicenda fossero comunque spostati nel giro di poche ore o pochi giorni, cioè il tempo di trovare una collocazione adeguata. Come si controllano queste strutture? Io spero che il Parlamento nuovo abbia più coraggio di quello vecchio e lo dico con grande forza coinvolgendo tutti gli assessori che hanno queste responsabilità. È il tempo delle telecamere, davvero, è il momento delle telecamere. Ci sono spazi vuoti dove il controllo non arriva e non possiamo pensare che debbano essere lasciati così.